Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati sul mio canale, ci troviamo al solito nel vlog di fine serie, la fine serie di Tomb Raider, e che dire, è stata una bella avventura, un gioco meraviglioso, non sto di nuovo qui a spiegare perché è la mia serie preferita in assoluto, e niente, quindi è stato veramente molto 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 bello rigiocarla di nuovo dopo tanto tempo insieme, quindi portarla sul canale. Che dire, fine di una serie purtroppo, ma inizio di un'altra, e per la prossima ero indeciso tra due titoli della stessa categoria, cioè soprattutto in prima persona. Alla fine ho optato per uno, ora tanto vedremo il trailer e poi torneremo nuovamente qui a parlarne. Alla fine. 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 Al prossimo episodio Il gioco che iniziai praticamente più o meno nello stesso periodo di Resident Evil 1 Ma mai finito purtroppo anche quello Quindi ecco perché ho scelto di portarlo sul canale in modo per finirlo Sia per me per rigiocarlo giustamente dopo un sacco di tempo che veramente non lo gioco Ma anche appunto per terminarlo insieme a voi Quindi cosa dire di Half-Life? Gioco storico, cult, diciamo che è entrato nella storia, nella Hall of Fame di videogiochi Perché uscito nel 97-98 Prima gli FPS non avevano una storia O meglio l'avevano ma era spicciola Cioè De Secondi, il classico eroe buono contro cattivi, demoni che vogliono invadere e distruggere il nostro mondo Ammazza di tutti, ammazza il boss finale, festa finita, basta Trame veramente abbastanza semplici ma neanche poi alla fine raccontate durante il gioco Con Half-Life invece per la prima volta è stata messa una trama all'interno di uno sparatutto Una trama comunque molto molto interessante e fatta bene tra l'altro Quindi, insomma, è stata una bella svolta ecco nel genere Quindi poi da lì in poi tutti gli FPS che usciranno, compresi quelli odierni Avranno una storia comunque di base Sia che sia meno complicata o più complicata Comunque un minimo di storie, una storia dietro ce l'hanno E la raccontano all'interno del gioco Mentre magari, vi faccio un esempio Doom, il primissimo, la storia non l'aveva Ti cominciavi, primo livello, andavi avanti, ammazzavi tutti, stop Soltate alla fine dell'episodio Per chi conosce Doom sa che il gioco è diviso in tre episodi Alla fine di un episodio, dopo il boss finale, quindi aver finito il livello Dell'episodio, c'era appunto un testo da leggere Che ti diceva cosa succedeva dopo Ma poi per il resto, zero La trama andava ricercata dove, su internet magari Che ti spiegava al minimo il dispensabile che c'era Che c'era questo Marine, che i demoni hanno invaso la base Dove su Marte, in orbita mi sembra a Marte, la luna di Marte Una cosa del genere Hanno sterminato tutti L'unico che è sopravvissuto, siamo noi quindi Siamo noi che dobbiamo andare a distruggere tutti i demoni Per impedirli di invadere anche la terra Questa è quella della trama di Doom Veramente semplice, banale E' proprio buttata lì tanto per Come scusa, diciamo Per giocare al Al gioco Invece per la prima volta con Half-Life C'è una storia, una storia complessa Con personaggi Che vanno capiti, una storia che va capita Che si evolve pian piano E si scoprirà Ben presto, diciamo Che è molto di più Questa storia di Half-Life È molto più quel che sembra inizialmente Come era Doom, no? Doom è la scusa dei demoni Per gioca, livelli, ammazzati tutti Stop Qui invece no Sembra una cosa banale inizialmente Però poi c'è tutto quanto una cosa Dietro, intrighi e cose Quindi è molto 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 bella Questa storia Quindi ha fatto scuola Ha fatto la storia Infatti i giochi moderni hanno appunto Come ho detto prima Tutti quanti una storia Anche Call of Duty, ad esempio Ha una storia durante il gioco E lo dobbiamo soltanto A un gioco come Half-Life Mi ricordo Io avevo all'incirca Dunque nel 1998 Avevo circa, sì 9-10 anni Che quando l'ho provato Il mio cugino Che è molto più grande di me L'ha provato Detto che aveva appunto Era un bel gioco L'atmosfera faceva anche Paura di giocarlo al buio Perché comunque Immaginatevi a quell'epoca Grafica del genere Un gameplay Veramente Diciamo Fatto veramente Per rivoluzionare Per certi versi Difatti poi hanno fatto Miliardi di mod Su Half-Life 1 e Half-Life 2 Quindi insomma Ed era un gioco Veramente che Bellissimo Acclamato da critica Da tutti Veramente Un gioco veramente Che ha fatto la storia Mi ricordo anche Di un mio amico Che Se non ricordo male Quando uscì Dead Space Quindi siamo parecchio Più amanti Mi disse Perché nei dialoghi Di Dead Space Il personaggio Non sta fermo Ma a te Ti puoi Muovere Praticamente Quando Invece magari Della classica scenetta Dove c'è Il personaggio Che è fermo Così Come un pezzo Di legno Non si può muovere Nel Space Invece ti puoi Muovere Ecco La cosa succede Esattamente Su Half-Life Quindi pensate un po' Un gioco Del 1997 1997 1997 è comunque Uscita in America Quindi dovrebbe essere Arribata nel 1998 Comunque Aveva dei dialoghi Dove te potevi Tranquillamente Saltare Sparare Andare in giro Saltare in capo Agli altri personaggi Che parlavano Tranquillamente E Quindi pensate un po' E al Half-Life Era già avanti Rispetto ai giochi All'FPS Che sarebbero usciti dopo Quindi Sono contento Di poterlo Rigioccare Di poterlo Riportare Di nuovo Sul canale Questa volta In forma Completa Quindi lo finiremo Lo inizieremo Lo finiremo Insieme Dall'inizio Alla fine E che dire ragazzi Vi aspetto Di nuovo Qui Direi anche di concludere Qua Che Ti viene troppo lungo Come al solito Vi aspetto Qua Per Iniziare Con voi Questa pietra Miliare In tutti i sensi Del Della storia Dei videogiochi Half-Life Ragazzi Ci vediamo Al primo episodio Della serie Ciao a tutti Tipo Grazie.